Un grande scrittore, grande amico del Casale, storico di tutto lo sport casalese, del calcio in modo particolare. Siamo vicino alla famiglia, il Casale partecipa, lo considera sicuramente uno della famiglia del Casale. Spero che vada bene la prossima volta, sicuramente vorrei una grande vittoria per dedicarla al grande Turismo. Grazie. Vi ringrazio.